Buonasera a tutti, è un grande piacere per me essere qui a Circo dei Littori, vi ringrazio dell'invito del Circo e della Fondazione che mi ha permesso di partecipare in questa bellissima squadra di scrittori, critici, intellettuali, studiosi che hanno amato, letto e trasmesso, trasferito a voi la loro passione per Carlo Levi in occasione di questo anniversario. Io quando sono stato invitato mi sono permesso di scegliere un percorso un po' fuori dalle righe, perché Carlo Levi è considerato, uno scrittore per esempio molto 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 amato in Germania, che è un paese dove è la terra, dove ho vissuto di più negli ultimi cinque anni e ovviamente in Italia soprattutto conosciuto anche dalle generazioni più giovani, questo Cristo si è fermato a Eboli, che è un libro che è un libro che ha dato un po' lo spirito anche, è uno di quei libri nazionali che fa lo spirito di un popolo e in questo caso proprio anche del nostro sud italiano, c'è un sud prima e un sud dopo Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Però io ho scelto invece un libro, un percorso con un libro molto poco conosciuto, oggi introvabile, ma spero per poco, perché è un grandissimo documento anche di come il nostro rapporto nel nostro paese con un altro grande paese al centro dell'Europa, che è la Germania, attraverso lo sguardo e gli occhi di uno scrittore come Carlo Levi. Questo libro si chiama La doppia notte dei tigli, è un titolo, metà dell'incontro di stasera potrebbe essere fatto solo sulla scelta che fa Carlo Levi per chiamare questo libro La doppia notte dei tigli. È un reportage, però un reportage molto sui generis, perché è un reportage che adotta una delle tecniche che maggiormente ha saputo maneggiare Carlo Levi, cioè non esiste paesaggio senza uomini nel suo racconto, cioè il paesaggio non sono solo i luoghi, ma sono gli uomini che fanno quel paesaggio. Questo libro si chiama La doppia notte dei tigli e nasce dopo un suo viaggio alla fine degli anni Cinquanta in Germania, dove incontra tantissimi intellettuali tedeschi, incontra i suoi lettori, incontra amici, visita alcuni luoghi di questa Germania divisa, divisa in due. Infatti il tema del libro è proprio il doppio, è il contrasto, la contraddizione. E stasera magari farò indegnamente anche un po' il lettore, perché leggerò anche dei pezzi dove noi potremo sentire dalla viva voce di Carlo Levi e come questo doppio, come questo racconto con il contrasto di due sentimenti, di due colori diversi, di due caratteri, ci porta poi all'avanzamento nella percezione di quello che lui ha visto quando è arrivato per la prima notte in Germania, quando è arrivato all'inizio del viaggio in Germania, e quello che poi lui lascia quando va via. È sicuramente un libro fuorviante, però fuorviante non è una parola negativa, attenzione. Cioè se io voglio andare in Germania e dire, vediamo, io voglio leggere, non so se anche a voi capita questa sensazione di quando si parte per un viaggio, di leggere gli scrittori che hanno raccontato quel luogo dove si va a vivere. E qualcuno che diceva vado in Germania e voglio leggere la doppia notte di Tigli di Carlo Levi. Sicuramente è un viaggio fuorviante, però fuorviante non è sempre una parola negativa, perché fuorviante sono dei percorsi, delle strade, che qualcuno non ha ancora fatto, qualcuno ritiene che sia sbagliato. Magari si rischia di cadere nei burroni, ma in altri casi ci si può trovare invece di fronte, sorprendentemente, a una strada nuova, una strada dove degli aspetti profondi, meravigliosi, non sono stati ancora resi noti, non sono stati ancora conosciuti. Il titolo dell'incontro di stasera metteva insieme il lato scuro e il senso di colpa, non era un modo per attirare l'attenzione, perché in questo libro Carlo Levi, quando arriva, lui entra subito in contatto, racconta una delle cose che lo percepisce quando arriva in Germania nel 1958, percepisce che i tedeschi, in qualche modo, quello che è successo decennio prima, lo hanno rimosso. La rimozione è un meccanismo psicologico con il quale un nostro trauma viene sepolto, appunto, in una specie di area che viene chiamata dimenticatoio. Cioè io questo trauma che ho vissuto lo nascondo, non l'ho vissuto, resta lì. E lui parla a lungo di questa rimozione, molto interessante, lo dice proprio nelle prime pagine, nelle prime pagine del libro, quando proprio usa la parola rimozione, e ve ne leggo proprio un pezzo, così entriamo subito nel clima di questo libro. La Germania è sotto shock. Quando lui è arrivato, la prima cosa che sente è che la Germania è sotto shock. Il nazismo e la guerra sono stati un trauma di incalcolabile profondità. E malgrado tutte le apparenze, il trauma non è superato. Permane, opera in profondo, ma con un processo naturale di rimozione. Il tempo dell'orrore, della destinazione, il senso collettivo del peccato e tutti i fatti, grandi e piccoli e spaventosi, che furono chiamati terrore e miseria del Terzo Reich, relegati al di là del ricordo, non hanno cessato di agire e proprio per questo meccanismo di rimozione su tutti i momenti della vita quotidiana. Carlo Levi mi dice che questo meccanismo di rimozione in Germania mi interessa perché la Germania è in tutti i sensi geografici, storici, politici e culturali ancora adesso, direi ancora adesso nel 2022, il centro dell'Europa. Lo è tuttora e tutti i suoi problemi sono quelli di tutti e riguardano tutti. è il 1959 quando esce questo libro e quindi lo sento molto, molto, molto vicino. Lo sento ancora un mio piccolo maestro invisibile, un mio personale Baidecker quando sono arrivato in Germania. È vero, questo senso di rimozione esiste. È curioso che molti storici tedeschi invece dicono che il senso di rimozione ce l'hanno gli italiani sulla Seconda Guerra Mondiale. Alla domanda tanto è stata colpa dei tedeschi e gli italiani hanno rimosso diciamo anche la loro Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo specchio è già uno dei temi di questo La Doppia Notte dei Tigli. Vi dicevo ci vorrebbe mezza presentazione di stasera per raccontare da dove è nato questo titolo. Questo titolo è nato proprio da questa idea di doppia che c'è in Germania e che aveva percepito Carlo Leve quando è arrivato. Lui diceva la Germania è un paese in questo momento nel 1959 è politicamente diviso in due ed è un paese con l'anima dilaniata. Ci sono delle pagine bellissime che leggerò alla fine su Berlino quando lui arriva a Berlino tra l'altro lui arriva a Berlino quando non c'è ancora il muro il muro viene costruito nell'agosto del 1963 nel 1959 lui è lì nel novembre del 58 lui addirittura nello stesso nell'arco di poche ore fa su e giù attraversando il confine fra Berlino Est e Berlino Ovest dove non c'erano ancora non c'erano ancora i checkpoint dove ti controllavano e dove lui poteva tranquillamente attraversare questo confine che non era un muro ma era un confine come diceva lui fatto di macerie e lui si ispira al padre della patria tedesca il padre della patria tedesca e Goethe Goethe è colui che ha dato un'identità alla Germania dice in questo libro Carlo Levi e usa una metafora le metafore di Carlo Levi poi sono sempre semplici ed efficaci dice Goethe è una montagna e la Germania è una pianura se noi vediamo un paesaggio quella montagna caratterizza la pianura se noi invece vediamo una fotografia dove c'è solo una pianura e una pianura e basta invece se noi vediamo una montagna e una pianura diventa già un paesaggio complesso la montagna è Goethe che ha unificato la Germania l'ha unificata col suo pensiero l'ha unificata con la sua lingua l'ha unificata con questo capolavoro assoluto che è Faust e nel Faust a un certo punto accade che c'è una scena una scena precisa in cui il protagonista è un personaggio secondario del Faust si chiama Linceo è un guardiano notturno e dalla sua dalla sua vedetta sorveglia un bosco di tigli in questo bosco c'è una capanna la capanna di Filemone Bauci e questa capanna ha un difetto oscura la vista a Faust e Faust ha firmato un patto con Mephisto e Mephisto gli sta realizzando tutti i desideri e fra questi desideri c'è per esempio anche quello di avere una vista migliore come otterrà questa vista migliore questa capanna di Filemone e Bauci brucerà con dentro Filemone e Bauci e in questa questo sesto libro del Faust ci sono questi versi me ne leggo proprio alcuni per farvi capire poi in qualche modo anche come si sia emozionato Carlo Levi e poi da lì abbia tratto il titolo del suo libro il verso da cui è tratto il libro ve lo dico in tedesco poi ve lo tradurro in italiano è Durk den Lindendoppelnacht attraverso la doppia notte di Tigli ed è in qualche modo anche un manifesto secondo me anche della scrittura un manifesto dello sguardo cioè io scrivo racconto perché ho una visione perché ho uno sguardo sulla realtà e quello sguardo è quello che allinceo quando guarda questa sterminata boscaglia fatta di Tigli io sono nato per vedere invitato per osservare di guardia sulla torre e qui il verso più importante mi piace il mondo scruto la lontananza vedo ciò che è vicino la luna e le stelle la foresta e il cerbiatto è la bellezza è la poesia è tutto è la natura vedo in tutte le cose l'eterna bellezza e poiché tutto mi piace anch'io piaccio a me felici occhi miei tutto ciò che avete visto sia quel che sia è stato così bello questo è un lato della notte è questo bosco notturno dove c'è dove c'è linceo che guarda e Carlo Levi dice è la Germania che appare è la Germania dell'ovest in quel momento la Germania che si esibisce soprattutto a Berlino esibisce all'est il capitalismo la sua ricchezza la sua opulenza la sua forza che poco alla volta si sta riabilitando dopo la guerra però in quella Germania e forse direi anche in ognuno di noi c'è sempre un lato oscuro non è per il solo mio piacere dice linceo che veglio su codesta sommità lui sta sempre su questa vedetta che guarda questo bosco che sinistro spavento sgorga dal fondo del mondo oscuro e vedo fuochi scintillanti e attraverso la doppia notte dei tigli un braciere sa dire cresce la sua violenza una pianura senza forma ecco qui arriva infine l'inferno della capanna in fiamme ecco linceo che dopo aver visto il bosco frondoso con la musica delle foglie che vengono accompagnate dal vento eccetera immediatamente un grande incendio ebbene la Germania è questo forse lo stesso uomo è questo c'è una zona oscura silenziosa ma che cova dentro di sé il fuoco siamo partiti dalla rimozione c'è una frase molto molto bella proprio sul tema della rimozione tratta dalle riflessioni di di Jung di Carl Gustav Jung quando lui parla del rischio della rimozione se noi dimentichiamo e usa la metafora delle due case vicine e una di queste due case c'è un incendio mentre nell'altra casa non c'è se io sono nell'altra casa e dimentico che c'è un incendio rimuovo le fiamme della casa accanto sì nella mia testa non c'è più quell'incendio ma quella fiamma può arrivare nella mia casa e distruggerla con raddoppiata violenza quindi ogni cosa che si rimuove tornerà nella vita di tutti noi con raddoppiata violenza ed è in qualche modo anche il monito che lancia nelle prime pagine di questo libro Carlo Levi questo sguardo doppio questa doppia notte è quindi il riferimento al quale lui parte e inizia e inizia questo questo viaggio questo viaggio sotto la diciamo la protezione di Goethe di questa grande montagna che appunto ha dato l'identità insomma alla pianura tedesca Levi a un certo punto parlando di questo ho segnato una frase che è molto bella ed è anche c'è anche un piccolo rifuso definisce questo spirito tedesco il continuo anelito dei tedeschi verso il classico verso il pagano l'ideale il perfetto della forma la brama amorosa e sognante per il sole per i paesi del sud per la terra dove fioriscono gli aranci in realtà poi lui sta citando Goethe che chiama spesso la Sicilia l'Italia la terra dove fioriscono i limoni quindi c'era questo è stato anche un dibattito che lui forse anche in uno dei suoi viaggi al sud lui una volta gli è scappato anche l'Italia il paese dove fioriscono gli aranci la Germania è una patria gelosa scrive Carlo Levi c'è stato un momento in cui la patria gelosa invece è diventata la patria del nazismo una patria delle funeste idolatrie usa questa questa espressione ed è una patria dove è andata in crisi la coscienza molto interessante perché a un certo punto di questo libro si pone il discorso che cos'è la coscienza di cui sta parlando Carlo Levi qual è la coscienza come mera funzione psichica oppure coscienza come presa d'atto consapevolezza di una distanza netta fra cosa è bene e cosa è male quando si perde quel tipo di coscienza appunto è l'arrivo della più più funesta idolatria nelle prime pagine di questo libro lui fa anche in qualche modo una specie di invocazione della musa quando uno scrittore inizia a raccontare una storia la prima la prima strada la prima cosa che fa è trovare la voce come racconto questa storia come racconto questo reportage come racconto questo libro è molto interessante che Carlo Levi nomina questo processo da un nome ed è il suo modo di agire per tutta per tutto il racconto della doppia notte nei litigli e questo processo si chiama cristallizzazione lo faccio ve lo faccio proprio sentire da lui per me questo è stato proprio utilissimo ne parlo da da lettore ne parlo da lettore ne parlo da scrittore e ne parlo da persona che lavora con i libri e lo consiglierei per esempio a molti esordienti molte persone che si approcciano alla scrittura e mi dicono dove partire beh innanzitutto devi trovarti la voce ma come si trova la voce beh a volte te lo spie lo vedi come lo fanno gli scrittori leggendo però qualche volta capita che non solo lo scrittore lo mette in pratica ma addirittura te lo sta spiegando e Carlo Levi spiega questo suo processo questa sua tecnica di scrittura che si chiama cristallizzazione e uso le parole sue non importa in fondo se questa immagine che prende il carattere della cristallizzazione sia in sé precisa e fondamentale importa che sia vera e viva e servirà poi ad aprire come una chiave tutte le porte e a far capire i molteplici aspetti della realtà che a loro volta la modificheranno questa immagine che può nascere anche da un oggetto insignificante qui lui sta facendo sua la lezione di Chekhov che diceva uno scrittore è colui che prende una caffettiera e la sa raccontare in questo caso lui dice un'immagine significante da una parola dal colore quel colore che può essere del cielo e delle case dall'odore dell'aria da un confronto o da un contrasto non è altro che un'apprensione o appropriazione amorosa ecco su questo amorosa ci torno dopo una constatazione simultanea di identità e di alterità una sintesi vaga e larghissima della conoscenza potente e rivelatoria nella sua vaghezza con quale semplice energia mi avevano parlato nel primo momento appena posato il piede sui loro selciati a New York a Mosca che cosa mi avrebbe detto al mio arrivo anche soltanto con il gesto di un passante con un suono di voce con uno sguardo la Germania quindi cosa di cosa sta parlando la prima il colpo di fulmine arrivo in un posto e c'è un dettaglio magari un dettaglio insignificante uno arriva magari pensa a un monumento invece lo dice la prima cosa che mi cattura e lì parte la cristallizzazione da quel dettaglio insignificante inizia il racconto lui questa cosa qui poi la sviluppa con questa tecnica che è fedele al titolo del libro cioè laddove tutto quello che lui racconta è sempre a specchio io sto raccontando per esempio un personaggio i volti delle persone di Monaco di Baviera nel pomeriggio sto dicendo che aria hanno stacco quegli stessi volti quella stessa aria raccontata poche ore dopo dopo che hanno iniziato a bere infatti c'è una scena che io uso un po' come come esempio dove lui a pagina in una delle prime pagine quando lui è appena arrivato a a Monaco di Baviera vede lui gli piace tantissimo allora lui è affascinato da tante cose lui gli piacciono i knype le birrerie è affascinato che nelle birrerie ci sono tante donne sole che bevono cioè Bellino ha detto questo è un paese super evoluto e una di queste donne dice no ma io io sto qui e bevo da sola non perché cerco qualcuno con cui puoi passare la notte io cerco qualcuno con cui passare la notte a bere e Carlo Lei dice è proprio un bambino che è felice di incontrare queste persone che gli raccontano poi la loro vita con grande semplicità con grande tranquillità lui tanto più vede queste persone soprattutto le donne un po' lascive che bevono una notte tanto più lui dice sono più belle nella loro smoderatezza questo 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 sostantivo che è molto è molto bello allora per esempio lui cammina in mezzo alla gente a Monaco e dice le facce dei passanti frettolosi nel freddo come tornano ad apparirmi l'indomani per le strade sono quelle borghesi e contadinesche di un paese tranquillo e sonnolento senza espressioni violente senza luci appassionate negli sguardi chiuse ordinate e pesanti una notte dei tigli andiamo dall'altra parte vediamo l'altra faccia della medaglia ma quando uscendo da una lunga visita alla vecchia pinacoteca entro stanco per la fiamme in un locale noto per la varietà delle sue salsicce e dei suoi viustel vicino al duomo verso le 5 del pomeriggio ritrovo quelle stesse facce quelle stesse facce borghesi contadinesche con espressioni violente senza luce appassionati che invece ad un tratto sono diverse sono liberate tra l'altro questo liberate continua sempre lui cerca proprio continuamente un seme di liberazione nel volto delle persone che incontra e quel seme di liberazione poi a un certo punto a un certo punto di questo libro ci sono dei momenti di grande commozione perché il libro ha due registri è doppia notte in tutti i casi cioè un registro che è un po' è un registro di tenerezza tenerezza fondamentale cioè dove un uomo racconta stupendosi di quello che vede e ti trasmette quello stupore da poeta te lo trasmette te lo fa sentire quando io prima vi ho letto quel pezzo sulla cristallizzazione e lui ha usato l'aggettivo amoroso per il racconto lui lo userà anche più avanti poi non vi voglio leggere tutti i pezzi insomma lo ripete non esiste la narrazione senza amore io non posso narrare un oggetto una persona senza anche per un secondo essermi innamorato di quello che sto raccontando alla fine la letteratura lo diceva Proust in maniera molto più complessa di come la sto adesso brutalizzando diceva io alla fine di un libro darò un valore diverso ma superiore alla dignità delle persone la letteratura ci fa pesare maggiormente il valore umano delle cose delle relazioni delle persone cosa c'è dietro quell'aggettivo amoroso quell'avverbio che lui usa più avanti quando dice bisogna raccontare amorosamente e perché poi alla fine quali sono i libri i libri che ci sono rimasti dentro che se magari noi non ci ricordiamo i titoli di un libro che abbiamo letto o di un titolo o di un autore cos'è che c'è rimasto dentro c'è rimasto dentro quanto amore ha avuto l'autore nel raccontarlo e nel trasmettercelo perché poi alla fine ci innamoriamo dei luoghi ci innamoriamo dei personaggi certo a volte ci sono tante scritture brillanti che cercano la strada della derisione cercano la strada dell'ammiccamento ma lui queste cose che diciamo queste piccole staffilate polemiche che poi ci sono ogni tanto nel libro che lui dice no però il racconto deve avere comunque sempre un rispetto dell'uomo deve sempre tenere presente con amore il racconto che sta facendo che cos'è quell'amoroso è una mistura di empatia pietas e compassione ma senza tralasciare e qua lui mi ha cambiato la vita in questo libro senza tralasciare l'ironia perché mi ha cambiato la vita perché l'ironia lui a un certo punto parla in alcune pagine di che cos'è l'ironia perché ne parla in un libro sulla Germania perché si dice che l'ironia i tedeschi e soprattutto Erich Hein lo dice in maniera in un suo famoso trattato grande poeta lo dice in una polemica con i romantici si dice che i tedeschi si vantano di aver inventato l'ironia ed Erich Hein dice che cos'è l'ironia l'ironia è un ritrovato è una formula dove la sciocchezza ciò che è sciocco lui usa una parola che è miserable to stand una cosa miserabile uno stato miserabile diventa sapienza come fa a diventare questa sciocchezza sapienza Carlo Levi lo farà alla fine del libro io quando arriveremo a chiudere la serata farò partire un piccolo video dove vedremo il diciamo avremo sullo sfondo Berlino negli anni nel 56 due anni prima di quando è arrivato Carlo Levi e vi leggerò un pezzo in cui avviene una metamorfosi e dove lui mette in pratica questo discorso che vi sto facendo cioè che nel raccontare bisogna raccontarlo con amore e avere sempre quel pizzico di ironia ma l'ironia è veramente difficile tutti ci riteniamo ironici ma vi assicuro io per esempio non sono ironico io ero convinto fino a qualche mese fa di essere una persona ironica invece ho capito che non lo sono non ho e l'ironia è veramente una è una qualità che hanno pochissimi e lui ce l'ha Carlo Levi e vi leggerò questo pezzo dove Carlo Levi si trasforma in Charlotte si trasforma in Charlotte dentro il bunker di Hitler detta così sembra un romanzo veramente una distopia totale Carlo Levi che si trasforma in Charlotte in un bunker di Hitler succede anche in questo in questo in questo in questo libro e quindi questo viaggio in realtà è anche un viaggio dello stile quindi questo è un libro che io consiglio anche moltissimo cioè lo sto usando anche come 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 by Decker non soltanto per un nuovo ritorno in Germania ma anche proprio nel rapporto con le persone con cui parlo di letteratura con cui lavoro con cui lavoro sui libri però adesso vi faccio sentire un altro po' le parole un altro po' la voce di Carlo Levi e vi faccio sentire ancora una volta questo rapporto che c'è fra luce e ombra fra fuoco e oscurità fra il bosco che è una distesa cupa e nera però affascinante con le sue foglie fondose che suonano e le fiamme che danno distruzione alla povera capanna di Filemone di Filemone e Bauci tanto che a un certo punto allora la característica Carlo Levi è veramente geniale quando lui cerca di tirar fuori alle persone che incontra quello che diceva prima un dettaglio un dettaglio che ci fa capire un pezzettino della loro anima lui cerca di applicare quella cristallizzazione non solo al paesaggio che vede ma anche alle persone che incontra una di queste io avevo fatto un lungo elenco di persone ma stasera ne farò una scelta ne sceglierò due ne scelgo due lui incontra una serie di personaggi incredibili incontra per esempio un architetto che sostiene di aver conosciuto Goethe e Schiller che sono la stessa persona tra l'altro dice che sia Goethe e Schiller sono la stessa persona quindi conta anche dei pazzi gente proprio ai limiti della della mitomania tra l'altro ho scoperto che anche grazie a questo libro che lui mette in luce dei personaggi che sono ai limiti un po' della della commedia allora c'è un personaggio che è un guardiano parlo del guardiano perché il guardiano mi piace molto perché il guardiano di cui parla Carlo Levi in questo libro è un signore che è stato in guerra in Italia e come racconta questo signore la sua esperienza in Italia in guerra è bellissimo perché questo signore che è stato in guerra in Italia ha provato a un certo punto della sua esperienza ha provato anche a parlare italiano a imparare l'italiano ma lui ha detto ho imparato il russo il cieco però in guerra era talmente stanco che non avevo più spazio dentro di me per l'italiano cioè non ne potevo più e questo guardiano notturno è un po' l'omaggio al guardiano di Goethe un guardiano notturno avvolto in un vecchio mantello grigio con un gran mazzo di chiavi faceva il giro di tutti i portoni siamo sempre a Monaco di Baviera perché è la prima parte del libro ambientata soprattutto nella Germania occidentale un guardiano notturno avvolto in un vecchio mantello grigio con un gran mazzo di chiavi e faceva il giro di tutti i portoni ci sentì parlare in italiano e ci rivolse la parola ne ho viste di cattedrali e molto belle ci sono stato per la guerra Rovereto Trento Milano era stato lì con l'esercito era stato a Cassino diceva di essere stato dall'Atri e poi iniziò a parlare degli italiani sa sono tipi ospitali era un tedesco dei suddetti con un viso già vecchio dai grossi baffi uno dei tanti che non avrebbero più rivisto il paese natale vedete che già questa pennellata fa capire come lui coglie la tenerezza di un personaggio cioè l'ha descritto fisicamente e poi va al cuore del racconto gli dispiaceva e gli dispiaceva molto di non parlare italiano avevamo imparato il cieco e poi il polacco e poi il russo allora non eravamo ancora così stanchi ma poi eravamo stanchi eravamo troppo stanchi per imparare anche l'italiano e ci salutò con aria militare e continuò il giro davanti a quelle piccole case addormentate sotto i tetti spioventi pareva dovesse lanciare il grido del coprifuoco badate al fuoco e al lume perché non vi accada malor lode al signor è una traduzione ovviamente che fa liberamente Carlo Levi dà la frase in tedesco che invece proclama questo guardiano la luce e il fuoco vita pericolosa sono nascosti nella notte interna ostinata e provvisoria della Germania e il passo zoppicante del guardiano notturno svaniva nel buio quindi questo è il tema del libro la luce e il fuoco poi ci sono altri personaggi c'è uno che a un certo punto incontra Gallo Levi anche lì molto divertente dice ah tu sei italiano io ho conosciuto Mussolini dice questo qua Mussolini è quello vestito di bianco che vive a Roma che si affaccia dalla chiesa e quindi capisce che e quando viene qui in Germania spesso solo che in Germania cambia nome si chiama Adenauer quindi incontra persone come dire anche dei personaggi un po' pittoreschi che lui però non li racconta mai per deriderli ecco l'ho scritto non deride non li deride li racconta per la loro umanità cioè tu sorridi però poi ti commuovi dopo aver letto questi pezzi poi a un certo punto incontra un cameriere italiano ah la storia del cameriere ve la voglio raccontare incontra questo cameriere italiano e se sono bravo a ripescare la pagina dove dove l'avevo l'avevo messa incontra questo cameriere italiano che 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 fuggito lì in Germania e che sogna di fare il cantante sogna di fare il cantante adesso non la trovo ve la dico a memoria sogna di fare il cantante solo che non ha non ha questo talento non ha questo talento e e allora Carlo lei diceva potresti fare lo scrittore e il cameriere gli dice dice una cosa bellissima dice no scrittore è molto difficile perché poi lo scrittore devi studiare tanto e io questa frase la devo mettere proprio come cioè proprio le fare le magliette quello che dice il cameriere lo scrittore devi studiare devi studiare tanto poi lui questo tema del doppio lo mette anche dal punto di vista geografico e adesso mi sono permesso di prendere la cartina della Germania dei fiumi vi mostro la cartina dei fiumi questa però ecco adesso si vede la cartina dei fiumi se noi vediamo questa cartina dei fiumi pagina 74 sì allora arrivato a un certo punto a Ulm Carlo Levi Ulm è una città più verso l'Austra famosa perché è la città dei due fiumi anche se in realtà non sono il Danubio e il Reno di cui lui parla a un certo punto però lui dice usa questa bellissima metafora e dice in fin dei conti la Germania se voi la vedete con la carta dei fiumi è una terra segnata da due immensi pesci e quali sono i pesci? sono un pesce che scende in maniera verticale che è il Reno e poi l'altro pesce che è il Danubio vedete sotto in orizzontale stacco 30 anni dopo in microcosmi Claudio Magris abbraccia questa definizione di Carlo Levi presa la doppia notte di digli ma Carlo Magris è un germanista grandissimo scrittore grandissimo scrittore io lo amo da morire e quindi non poteva non aver letto questo libro e lui dice che da questa definizione nasce la famosa definizione del fiume dell'antifiume cioè il Danubio è il fiume per eccellenza mentre il Reno è l'antifiume perché il Reno è il simbolo e fu anche il simbolo nei tempi delle funeste idolatrie per dirla come diceva come diceva il nostro Carlo Levi è l'antifiume il simbolo della purezza mentre il simbolo del mischione il simbolo dell'integrazione il simbolo anche della frammentarietà è il Danubio e quindi questi due fiumi che si fronteggiano e che caratterizzano in qualche modo il territorio della della Germania c'è un pezzo molto commovente che è il suo viaggio a Dachau allora questo libro a un certo punto ve lo racconto non lo leggo Carlo Levi arriva a Dachau con un suo amico e rimane sono due pagine e sono veramente emozionanti perché Dachau dopo essere stato un campo di esterminio gli anni 50 è un campo profughi e quando arriva Carlo Levi lui scappa dalla macchina dove andava con questo amico si chiama Rainer che lo stava accompagnando entra in questo campo profughi e vede questa gente seminuda in un periodo freddissimo dell'anno con gli zoccoli con le porte che sono semi aperte e lui entra addirittura in una casa inizia a parlare con queste persone inizia a sentire le loro storie sono profughi sono scappati dalla guerra ma dalla guerra di dieci anni prima vivono ancora come profughi in un posto dove lui sente che lì c'è stato davvero lo sterminio ma continua in qualche modo un dolore che persiste ancora 15 anni dopo questa scena di Dachau comincia da un pezzettino di costruzione che è stata diroccata dove c'è sopra scritto la parola docce e quella parola docce ovviamente sono le docce delle camere a gas dove venivano gasati deportati quindi quelle pagine su Dachau sono bellissime sono fra le pagine fra le pagine più belle spesso molto molto dimenticate in questa unica edizione che oggi c'è di questo libro si trova una pagina 61 guardate proprio due frasi quando lui incontra una di queste persone perché Carlo Levi è insuperabile maestro quando lui racconta incontra le persone che vuole raccontare lui trova sempre il dettaglio giusto il momento per farcelo arrivare lui entra in una casa è arrivata in una casa di questi profughi c'è questo clima incredibile che si sente la pesantezza della foresta che lui ha attraversato l'umidità il freddo la fanghiglia a terra qui vivo i fuochi accesi batto ad un uscio e mi trovo in una piccola stanzetta divisa con un tramezzo di legno un tramezzo di legno dal resto della baracca in fondo sotto la finestrina dove si incrosta la neve c'è una branda coperta da lenzuola stracciate e sulla branda stanno seduti due scheletri due uomini immobili con enormi occhi spalancati e fissi senza colore lucidi di febbre e di arida angoscia e la pelle flaccida e rugosa di un pallore giallastro le mani posate sulle ginocchia sono dei profughi dei rifugiati uno si chiama Sperling e tutto il campo di Dachau è abitato da profughi e poi continuo il racconto è veramente molto molto emozionante stare qui a continuare a leggerlo però lui a un certo punto prosegue il suo viaggio e una sera si trova a cena con una serie a Stoccarda con una serie di intellettuali di Stoccarda Stoccarda è una città molto pensate negli anni alla fine degli anni 50 c'era una comunità soprattutto di pugliesi di 20.000 persone italiani quindi è una città immaginate oggi che cos'è insomma con gli discendenti con tutte le nuove emigrazioni quindi Stoccarda è proprio uno dei grandi nuclei dell'emigrazione italiana Carlo Levi arriva lì ed è super popolare ci sono queste serate dove lui viene accolto tutti fanno a gara per invitare la cena lui si ritrova una sera una cena con tanti tedeschi invece intellettuali e e lui nota questo che quando si parla di Berlino tutti cambiano discorso Berlino è la ferita perché Berlino è la città divisa Berlino è quello che provoca la riemersione del rimosso Berlino è il tema infatti in seconda parte del libro il viaggio a Berlino è molto emozionante e quando quando Carlo Levi sta a questa cena uno dice uno si sbottona e dice guarda possono distruggere tutta la Germania possono radere al suolo la Germania possiamo dare ai tedeschi ai sovietici tutto tutto ma Berlino no Berlino ci sono le ossa dei nostri morti e c'è lo spirito di questa nazione con queste parole che rimbalzano nella testa percuotono lui lui arriva a Berlino lui arriva a Berlino in un periodo tra l'altro l'arrivo a Berlino di Carlo Levi è magistrale perché Carlo Levi anche qui una nota di carattere proprio stilistico Carlo Levi è veramente uno scrittore italiano di quel periodo storico che aveva proprio una sua identità Sapegno stesso Enzo Siciliano nelle loro letterature dicono non esisterebbe la letteratura italiana se non fosse esistito Giotto se non fosse esistita la pittura cioè la letteratura italiana a differenza di tutte le altre letterature del mondo ha una derivazione più dalla pittura che da dei documenti noi diciamo la letteratura è nata dal documento veronese il ritorne no se non c'è la pittura non ci sarebbe la letteratura uno come Carlo Levi che era anche un grande pittore questa lezione lui proprio ce l'ha dentro uno scrittore italiano più di tanti altri scrittori sarà sempre molto attento al colore alle descrizioni a trasmetterti un certo tipo di immagine infatti poi lui nel corso del libro fa proprio un riferimento sul fatto che gli scrittori tedeschi nelle descrizioni sono un po' più grevi perché hanno avuto dei pittori un po' più grevi tutto Carlo Levi lo racconta anche molto bene in un capitolo quando lui arriva a Berlino per esempio lui la racconta già dal colore cioè lui arriva già descrivendo il colore delle foreste il giallo il nero e il colore il giallo e il nero per lui è questo viaggio a Berlino è tutto fatto di giallo e nero è una Berlino divisa in due le due Berlino che passando dall'una all'altra parecchie volte al giorno come non fossero due città ciascuna delle due mezze città tende a portare all'estremo i principi del mondo che la regge a questo punto magari faccio partire visto che così mi avvicino anche alla conclusione il video questo video che è rarissimo è un video di Berlino del 1956 che mostra la Berlino dell'Ovest e la Berlino dell'Est e mentre questo video va adesso io vi leggo questo pezzettino molto breve che poi mi porterà a questo punto poi al finale di cui vi ho promesso il finale ironico di questo viaggio che fa Carlo Levi ecco questo è Berlino vedremo nella prima parte soprattutto la Berlino dell'Ovest un po' più opulente un po' più ricca e nella seconda parte la Berlino dell'Est un po' più precisa con le strade molto più ampie vedrete una Stalina enorme nel 1956 ecco lui arriva con l'aereo infatti Carlo Levi dice c'è questa descrizione delle foreste da cui lui arriva da un lato le due Berlino da un lato la libertà individuale l'abbondanza la ricchezza la modernità del gusto il decadentismo l'indifferenza la finezza la disparità dall'altro la virtù il lavoro il sacrificio la partecipazione ma l'una e l'altra parte gli uni e gli altri berlinesi pare vadano attuando questi ideali e questa realtà contrapposte per quanto con determinazione e con ostinato coraggio senza realmente crederci e aderirci come se di qua e di là le due strade intraprese che vanno di giorno in giorno divergendo fino a quando la distanza sia del tutto incolmabile non siano altro che un modo non sentito come assoluto e necessario ma accettato dalla sorte accettata questa o quella direzione intrapresa questa o quella strada affrontati per un gioco stoico o quasi sportivo i sacrifici che ne derivano proprio quel vuoto interno quella mancanza di autonomia nelle prime decisioni e il piacere quasi meccanico del movimento rivolto a impedire ogni riflessione e dubbio e crisi di coscienza e qui torna anche la coscienza cammina per Berlino incontra tutti gli dicono tutti la stessa cosa qui sono sepolte oltre centomila persone sono centomila anime di morti sono state le ossa dei nostri morti delle persone che sono vittime della guerra che abbiamo fatto ma che poi abbiamo anche subito e in questo viaggio che fa che fa levi c'è questa scena finale in cui lui sempre c'è sempre questa luce gialla e questo nero giallo e nero giallo e nero guardate come lo descrive ma come una girandola spicchi bianchi e neri che gira vorticosamente appare uniformemente grigia il mio continuo passaggio tra l'una e l'altra a Berlino dopo infiniti andirivieni e l'ultima sera e lui è arrivato a un certo punto sta in macchina con degli amici ha raccontato le due Berlino la Berlino dell'Ovest lui dice sostanzialmente è una prova muscolare di quanto è opulento l'Occidente pensate che a Berlino i ragazzi di Berlino Ovest non facevano servizio militare venivano avevano anche molte veniva favorita moltissima l'immigrazione interna al Berlino di giovani per andare a vivere a Berlino Ovest per mostrare a Berlino Ovest quanto fosse ricco e come si vivesse bene in Occidente e sembra nel racconto di Levi che in qualche modo lui critica questo approccio però quando lui racconta l'Est dice qui c'è un po' invece senso di partecipazione in unità eccetera però lui tutte le persone che lui racconta non hanno nomi è un dettaglio lui non dà i nomi alle persone dell'Est in quell'illissi del nome fa capire anche il peso della dittatura che lui non può fare i nomi di quelle persone che lo stanno accompagnando e poi la scena finale che vi leggo perché non è la scena finale del libro è la scena finale del capitolo su Berlino ed è il momento nel quale con quale mi voglio congedare con voi stasera usando le parole di Carlo Levi lui è in macchina e passano avete visto il video alla fine del video ah c'è una foto possiamo mettere la foto della porta di Brandeburgo alla fine del video praticamente risale questa foto proprio al periodo in cui stiamo negli anni 50 e no questa in realtà è un po' dopo invece perché c'è già un pezzo di muro però lì vicino alla porta di Brandeburgo c'erano ancora le macerie tant'è che il confine fra Berlino Ovest e Berlino Ovest tutti potevano andare su e giù ancora e non c'era addirittura la metropolitana percorreva da Berlino Ovest tranquillamente e lui è in macchina con degli amici e si trova a passare vicino alla porta di Brandeburgo e da quelle parti c'è i resti del bunker di Hitler allora Carlo Levin questo libro è stato molto 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 ha tenuto sempre uno stile molto compito molto serio tranne due tre momenti ce n'è uno bellissimo dove lui una domenica mattina viene preso e portato a una commemorazione di uno scrittore morto dove c'è la vedova che parla parlano tutti di scritto una cosa devastante e lui cerca di uscire e gli spiegano che non si può uscire perché durante le conferenze negli anni cinquanta questo adesso non lo fanno più mi hanno detto l'ho visto anche sulla mia pelle durante le conferenze chiudevano a chiave le persone nei teatri quindi c'è Carlo Levi che dice immaginate il senso di angoscia qui non vi hanno chiuso a chiave quindi quando vedete potete andare però Carlo Levi c'è questa pagina divertentissima dove lui racconta questa scena fantoziana perché sono tutti questi che stanno massacrando questo poveretto che è morto perché dicevano discorsi di una pesantezza pazzesca poi lui non capiva tutto quello che dicevano e dicono beh scappiamo dice no non possiamo perché ci hanno chiuso a chiave quindi era domenica mattina tra l'altro quindi era molto divertente quindi ci sono questi momenti di apertura di leggerezza però poi lui a certo punto mette in atto quello che dicevo prima l'ironia la sciocchezza elevata a sapienza che cos'è questa pagina che vi sto per leggere e con cui concludo la serata queste strade buie di macerie dove arriviamo verso le tre di notte verso la porta di brandeburgo erano state il centro dell'opulenza della politica e dell'eleganza di berlino non se ne riconosce neppure la forma al di là di un filo spinato nella terra di nessuno ne reggia l'avanzo del bunker di hitler questo palazzo sulla sinistra cadente di rovine coi muri spaccati e screpolati questo mucchio di mattoni e di polvere era la splendida casa di Goering vi entro curioso per un buco nel muro già vedo che Carlo Levi che entro questo buco nel muro nel bunker di hitler impazzisco attento a non inciampare nei travi e nei detriti gli amici e le mogli che stavano con me sono rimasti fuori ad attendermi nell'automobile mi chiamano ma io vado avanti sono solo e le signore non possono vedermi le signore non possono vedermi perché lui sta per fare una cosa immaginate cosa sta per fare ora ve lo dico poiché finalmente sono solo e le signore non possono vedermi approfitto senza pensarci nel momento di isolamento per fare pipì nel buio contro il muro la pipì era un gesto automatico e senza alcuna intenzione ma subito nello stesso momento mi sono accorto che era lo stesso gesto che avrebbe fatto deliberatamente per inevitabile intuizione poetica Charlie Chaplin nelle vesti di Charlot e non ero io infatti in quell'ombra non ero assolutamente io Carlo Levi ma Charlot arrivato alla fine del film alla fine della vicenda del tutto libero nella stanza del dittatore del capo della servitù del capo dell'altro mondo sì c'era dunque una fine quella di Brecht quella di Chaplin ed era questa che si mostrava da sola nel mio gesto involontario ed era una fine molto buona perché era una fine possibile tutto era finito ma in quel vuoto un nuovo tempo poteva incominciare e nel mondo nel mondo che è già diverso c'è ancora la speranza grazie grazie